Entra dentro nell'audio del party che è meglio Poi quando arriva il tuo amico switchiamo con l'audio di gioco Ciao ragazzi mitici Eccoci qui amici e amiche come state come state Buona serata a tutti Marco è grandissimo Morris Ecco infatti stavo appunto mandando un messaggio a mitico Morris Ehi dimmi tutto Mico Marco non ti sei venuto Cioè non ti sei Eh vieni dentro nel party Ti stavo scrivendo facciamo adesso finché non è ancora arrivato il tuo amico Che fa l'aggiornamento Hai già arrivato Ah ok allora switcho e esco dal party Allora facciamo il party di gioco Perfetto dai rinvitami Ciao 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 gioco ci poco ciao Bella gioco gioco Salutamelo Marco 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 Eccomi 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 Gioco gioco Ciao Grande gioco gioco che è passato da tutti Questo è il mio amico Ciao amico di Morris Proven Ciao 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 Fabrizio Bella Fabri Ti chiamo Fabri perché Fabrizio è troppo lungo Grande Fabri Non ricordi quello Fabrizio 8 9 4 5 7 8 Sì vabbò Vito Ma sono qui Sono qui in gioco gioco Non mi vedi La posso creare io Abbandono e vi invito tutti e due Vai Ok guys Bella lì Tra un po' gioco gioco Riusciremo anche a fare la live che si vede anche Morris nella mia Un attimino di pazienza che Riusciamo a fare tutto 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 Eccolo qua Marco mi vogliono come dipende da ebay Poi subito Io Marco e un mio amico che si chiama Fabrizio Bella Ciao ragazzi Gli amici di Morris sono anche i miei Ciao amici di Morris Grandissimi Ok Si è chiuso Ok raga Allora siete pronti a sparare? Spariamo? Sì sì Bravo Mi vedo belli carichi Bravi bravi Bisogna sparare qua Stai zitto tu Stai zitto Telefono Stai zitto Spariamo Spariamo Passai Sono d'accordo Mi sento molto carico anche se sono scarico Mi senti molto carico Se sei scarico Potrebbe essere una canzoncina Potrebbe essere una canzoncina Mi sento molto carico anche se sono scarico Qui è discoteca raga Allora Morris come è andata la scuola? Bene Bravissimus Prime E anche al nostro nuovo amico Domani Domani arrivano il pagello Dai dai ci sta Scuola Bravo mi piace il tuo entusiasmo E poi così tanto entusiasmo Non l'ho visto io Siete stanchi anche voi Dopo tutti quei mesi lì a studiare Pensate che quando andrete a lavorare Non c'è tre mesi di pausa Quindi godetevela Ciao Giulia Ciao il mitico Morris E anche Fabri Grande Fabrizio Fabrizio ne? Sì Oh grande mi sono ricordato Grande drums E' bene? Eh bella bella Ciao Roby Grandissima Roby Guarda che mega live Giovanni E lo giusti per me raccomando Giovanni ma dov'è che doveva esserci lui? Anche lui No lui Doveva esserci anche lui E' venuto nella mia live Mi fa Marco basta Gran Turismo Giochiamo a Warzone con Morris Io poi lo invito Organizzo e lui non c'è Vabbè Ha avuto gli impegni Gli impegni Non è che c'è una fidanzata eh No no L'ho persa Roby Giulia Scusami What is game? Ciao 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 La GiuGiu La GiuGiu Ciao GiuGiu Ok cominciamo già che ho ammazzato uno Due ragazzi Incredibile 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 Nascondiamoci qua No Ciao Morris Marco Drums E gli altri giocatori Grande Roby Grandissima Ciao ciao Amica mia Dopo arriva anche Carla Dopo arriva anche Carla Ci stiamo a divertire stasera sparando eh Eh GiuGiu Ma quanto tempo Amica mia Mamma mia Grandissima Sì che arriva anche Carla Oh che bello vedere la Roby La GiuGiu Gioco gioco Lord La Giulia Grandi ragazzi Allora devi capire Fabri che io faccio casino eh Allora dove andiamo? Allora possiamo andare alla discoteca Visto che la prima partita Non c'è Credo di andare a Bacon Ciao GiuGiu Come sta il tesorino? Giulia ha detto come stai Morris Mi ha partito Oh dove andiamo? Dove andiamo? Vabbè ci sta Dove andiamo? Dove andiamo? Raga non mi avete detto dove andiamo Oh Ah aspetta Ok Morris ma dove andiamo? Mito mio Non mi hai detto dove andiamo? Sì Ma porca Ma dai sono già morto Ciao campione Morris Ciao Lord Oh Ma dove siete voi? Non mi hai messo il puntatore Mi comino Marco Oh Dimmi Ci sono Ah sei morto Non mi hai messo il puntatore Come si chiama lì? Coso Non l'ho capito Ah adesso l'hai messo È giallo? Non so È il puntatore Qui Ah ok Dove siamo noi? Sì sì Perché prima non c'era Ah Vai uno l'ho segato Ragazzi l'ho segato Mi ha tirato Mi ha fortunato Grazie tesoro Quello bla bla Grandi ragazzi Grandissimi Vai diventando un pro player Grande Morris Pro player Marco Drums Non ci credo Realmente non ci credo Guarda che siete qua Ciao Mi stavo sparando Dove ti stavano sparando? Ne so io Ah ho capito Ho capito Ho andato Juanita di là Attenzione Attenzione A terra A terra Puscia 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 Sei ancora vivo Matto sei migliore Con un sacco Chi me l'ha scritto Chi me l'ha scritto Grazie Roby A giocare con i migliori Roby Con Morris Con il suo amico Fabri Con Michele A giocare con i migliori Si diventa Fuertes Michele è proprio forte Michele È forte Oh Oh No 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 È dove? È stata È stata La scuola è finita Giulia Si 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 La scuola mia è finita Trent'anni fa Avete garazzo? Si Uno Due Dammi una La vuoi? Si si Eh si Sono 15 euro Allora aspetta che non mi ricordo come si fa a darle No ho sbagliato 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 Perché sta guardando l'orologio? Ok è qua Eh Lascia La lasciate? Ok Ok Roby Marco sei economico Ciao amici di Twitch Grandissimi Buona serata Warzone stasera In compagnia Aveva due Me ne ha detta una Ti chiuso di amare Eh beh oh oh E io cosa faccio dopo? Eh vabbè Vai Vai Eh mori Bisogna 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 Tenere Per i periodi bui Guarda qua Guarda qua Guarda qua Uh Ma che ce n'è una qui Ce n'è due qui Prese Vi siamo ancora asse? Mi ho una da darvi se volete Andiamo Buona 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 la corassa Oh 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 Arriva gente Arriva gente Entra ah è sopra lì dove siete voi attenzione due sopra ho lì non lo c'ho eccola qui mio amore no quello che dà la nonna roby perché quando è così ma sì dai è la prima la prima la prima di milioni no in realtà no la bella insalatona o che bello quando la gente mi parla di mangiare mi fa venire fame allora tutto bene tutto bene tutto bene grande grande very important marco ti aspettava a braccia aperte sì sì lo so ciao lord allora dovete capire che quando sta caricando in vari momenti il mitico morris e il mitico fabri non lo sentiamo più eh non è vero e mo hanno cacciato oh adesso mi sento ma marco in realtà mo si mi sente da sempre da inizio la partita davvero? sì sì ma perché hai cambiato qualcosa o non mi ricordavo io ho sbagliato io? potrebbe essere che mi ricordavo sbagliato eh ciao amici di twitch marco drums games il drago è arrabbiato ragazzi è arrabbiato ma grandissimo fabri tu hai hai twitch ciao loki sì oh iscriviti al canale di marco drums games dai mitico è già fatto oh ma sei grandissimo allora grazie hai cambiato qualcosa i capelli marco ma sumo ho il parrucchino no non lo so perché sono così brutti stasera li ho lavati e basta vedi faccio così ma non vanno su sono attaccati sarà forse il sudore ragazzi com'è da voi si fa caldo qui si muore che bene Si sta bene da voi? No qua si muore ragazzi No Fa caldissimo dalla Roby Anche qui è Oh che meraviglia Ciao amor Allora ragazzi Mega Mega Domandona Morris Prima Morris E poi due patti nell'arrivo E poi al mitico Fabri Tu lo compri O comunque lo recuperi Il nuovo Call of Duty che uscirà Non so se andai più Adesso ti sento Come state? Giù giù davvero Da quanto tempo ci sei mancata amica mia Noi stiamo bene Almeno io sto bene I miei capelli non tanto stasera Sono messi abbastanza base Sono basico Devo anche andare a tagliarli Forse per quello che sono così mardoni Ciao a tutti ragazzi Allora domandona Stavo morendo con la saliva Allora mega domandona A Morris Lo comprerai O comunque lo recuperi Il nuovo Call of Duty Morris? Allora ti ho detto Bisogna vedere Fino al 20 ottobre Fino al 20 ottobre Se ci saranno tornei Qualche cosa Perché se poi c'hai il torneo Non compri più niente Devi fare solo torneo di Warzone No Se ci sono tornei Potrebbero esserci tornei Dove vinci No? Dove lo vinci Il gioco Ah C'è uno che ha detto E me li che abbandoniamo Perché ho ammazzato E me li che abbandoniamo E invece tu Fabri Lo prendi Con tutti quello nuovo O eviti O giochi solo Warzone Quello nuovo che uscirà No Non lo sai Sei ancora indeciso Eh Bravo bravo Così si fa Oh Sharder Amico mio Dai Hai fatto l'aggiornamento? Arriva anche Sharder Morris Marco Dimmeduto Allora la beta costa 110 euro No la beta Tutto il gioco E ti fa andare in beta E ti fa provare la beta Quando uscirà Dove 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 Puntate puntate raga Ho messo ping Ma dove è il ping? Ah si E no ancora Ok Sharder Deve ancora installare l'aggiornamento Oh ragazzi C'è già uno eh Ho due Ok bravo E quando ci muo Non spara C'è qualcuno dentro? Porca loca No Dai che l'ho ammazzato A furia di pugni Vi ho dato un pugno Tu non ammazzi mio amico Così Il mio amico Morris No C'era il suo amico Ma dai Però Però no Però no Anche lui mi ha dato le lineate E' un gioco di pugni Pettine verde di Giulia di Robby Ok Pettine verde ragazze I miei capelli Sono come Colla abbracciante Stasera Fanno veramente Schifio Polpette Pomodori Mozzarella E bufala Insalata mista Uh Ma quello che ho mangiato anch'io Ah Ah è Carla È mia moglie Oh quanta gente è morta qua Oh È pieno living È pieno Raga è pieno Dove? È living Sì Mozzarella Sono un'arma Devo schifo Ah Giugno Ho mangiato cose Di oggi sto mangiando cose del genere Che coincidenza Marco Davvero? Che t'è roba è Giulia? Robby Intanto Finisco la livrea della mezza Grande Marco vieni da noi Prendi le armi Che poi andiamo Dove siete? Qua vediamo Questa qua c'è Questa pure Mi serve C'è una minita Io faccio moltissima fatica A capire dove siete Non c'è Ah sì Siete lì Di dietro Questa buona guarda Oh ragazzi sto arrivando Dove? Arrivo Da dentro Questo Eccomi No no Ciao 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 C'è l'arma è bella qua Venite 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 vi prego Arrivo 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 Ma dove? Porca Ma dove sei? Sulla tua casa? Ah ecco qui che arriva giù Arriva giù Nooo Quello di prima Che mi ha dato legnate Nooo La 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 Oh Fabio Che se no Non lo facciamo Sì occhio Fabio eh Che io ho 12 secondi Rianimus Buono sprizzo a tutti ragazzi Siamo i smertos Allora dovete capire che le prime 16-17 partite della sera servono per carburare Poi ne facciamo una o due fighe e andiamo tutti a letto Ok raga? Giusto Morris? Eh di solito è così che funziona Faccio finta che lo sprizzo è te E' finito lo sprizzo Però fa niente Tanto l'importante è il gesto no? Ragazzi buono sprizzo a tutti Tè verde Tè verde Tè verdino Roby Tè verde così fa bene alla salute Fa dimagrire Mia moglie non mi rompe le pate Ah la Roby mi ha scritto Ho visto adesso Robettina Ti rispondo lo stesso Ok Dici? Scappano perché sanno che ci siamo noi? Io direi proprio di sì eh Vedo te abbandonare Vediamo le armi Uh vedi questo qui? Call of Duty Modern Warfare 2 Questo io lo volevo comprare sinceramente eh Ciao amici e amiche di Twitch Lo vedremo fra 5 minuti Oh cosa che stanno dicendo? Buono piace anche a me Ci dobbiamo credere Giusto il tempo di dare le risposte Ragazzi io avevo Se beve lo spritz Muori Avevo una canzone per voi oggi ragazzi Ieri Morris e Fabrizio Abbiamo fatto Su Gran Turismo 7 Abbiamo fatto io che Canticchiavo le canzoni e gli amici Scoprivano quale canzone era Ed era carina come cosa Oggi ho pensato a 4 o 5 Canzoncine e Passativamente adesso che ve l'ho detto Non me ne ricordo più neanche una Porca miseria aspetta Ci sta dentro Aspettavamo questo momento con Giulia Vieni a guardare la mia opera d'arte Amico biglio non posso Sono su Warzone E vorrei che Perché cantavo Allora fammi vedere un attimo Stasera ho fatto il piano Allora Allora fammi capire un attimo Stiamo facendo una partita bella Bellissima Ah questa canzone La dedico a voi donne Bellissime ok Senti qui Senti qui Morris E beh non posso cantarla Morris Perché poi mi arriva il ban E qui c'è il ritornello raga E qui c'è il ritornello raga E voi bellissime amiche mie Agli uomini no Perché siamo tutti brutti Bisognerebbe fare Inventare una canzone Ciao Zubi Bella lì Zubi Tuzzo Grande Zubi 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 Ciao Winter Grandissimo Come stai Come stai amico mio Allora Lord Hai preferito Stasera di dormire Ok Zubi Tuzzo Grande Zubi Tuzzo Ragazzi Seguiti anche lui Che è fortissimo Se vuoi sono online Vieni Zubi Allora Andiamo a casa verde Morris Dopo questa Esci un attimo Che invitiamo Zubi Tuzzo Che lui è bravo anche lui Ti ricordi che abbiamo già giocato Con Zubi Marco Ui Ma vuoi sentire una battuta Io sto morendo Dimmi tutto Lo sai qual è il colmo Per un interista No Guardare un film In bianche me Tutto a posto Distrutto Adesso uscendo a mangiare Forse conto a me Mi ha detto Lo spectro Oh Grande Winter Così si fa Grande Grazie Grazie Winter Grandissimo Grandissimo Così si fa Dovrebbero imparare tutti da te Grande Grande Grazie Allora Grazie davvero Winter Grazie mille Grazie 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 Grandissimo Ho fatto il ride Winter Grazie Grandissimo Allora Sharder Un ride di tue confronti Con 12 spettatori Grazie Ciao ragazzi Allora Grazie mille a Winter Se vi piace il mio canale Iscrivetevi Iscrivetevi subito al mio canalosso Grandissimi ragazzi Grandissimo Winter Allora Adesso poi Quando finiamo Entra anche Zui Tutto tv Bella lì Raga Allora Ma qui siamo già in partita O ancora in pre lobby Raga Siamo in partita Oh cacchia Rola Ah io credevo Grazie che me l'avete detto Eh no Infatti Stavo già facendo Le mie solite stupidaggini Abri Dammi i soldi Pavor Ok Aspetta Aspetta Giudi Qui siamo Stiamo andando Allora io ho dei soldi Se qualcuno No io in realtà Non ho neanche una lira Bella Cominciamo bene Mi piace tantissimo Stavo Servono due lire Servono due lire Ti propongo una canzone Non puoi proporla tu Eh sì Zubi Zubi È la mia bella mogliettina Tranquillo 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 Non c'è problema Anch'io a volte Quando entrava la Robby All'inizio Pensavo che era Roberto Vero Robby Ti ricordi l'inizio Vero Vero Mille Di vuoi Proprio mi vuoi Rovinare Ti ricordi Ascoltami Giulia Io ti voglio Tanto bene Ma Quello lì Oh ragazzi Perché Chi è che ti sta sparando 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 Dov'è 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 Amori Guarda ti posso cantare 784 milioni di canzoni Del mondo Ma quella lì no È proprio A pelle Ragazzi Possiamo dividere i soldi Se no poi li perdo Assolutamente sì Oh attenzione Perché io no Ecco qua Chi è che Ha fatto Sta botta È il botto Chi ha fatto il botto Eh sì Ma come lo canto Quello lì che è scritto Attenzione No io Ma se i soldi Mi perdono Oh Oh my god Oh Certo Ti do slignates Ti do slignates L'ho tirato giù a pugni Attenzione No Qualcuno mi rianima Please Grazie Ce li possiamo dividere i soldi Ragazzi Sì Li vuoi Oh attenzione Ragazzi Cosa succede Oh cacchio No Ebbè Dai però siamo arrivati noi Direi che non è male Come terza partita Questo ha finito i colpi Appena c'ho ucciso Io vorrei Anche i soldi Grazie Anch'io vorrei i soldi Anch'io vorrei i soldi Grandissimi Non l'ho riconosciuta E' un po' difficile quel ragazzo lì Quello con la E Perché invita Zubi Zubi Entra amico mio Aspetta Aspetta che dobbiamo invitare Non mi ricordo mai Come si fa invitare Questo gioco Aspetta Come si fa invitare Questo gioco Allora Operatori Battle Pass Caserma Però sei avvicinato Grazie Grazie Sembrava Spongebot Penso Eccolo che è entrato Grande Non ti vedo Non ti vedo però Non ti vedo Ah si Ti sento Ciao bello Non sento Marco Come non senti Marco Io ti sento Adesso Adesso si Adesso si Zubi Mi fai di scherzi Ciao Ciao Buonasera 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 Allora Zubi Abbiamo fatto La prima partita Bruttissima La seconda Un po' Megliotto L'altro Un po' Megliotto Ma queste insomma Bisogna anche vincere Qualcuna Dai 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 Forza 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 Zubi Grandissimo Forza Morris Forza Fabri La roba Mi rida Intanto Allora Dovete capire Che a volte Non si sente Zubi Tutto 553 Di livello Hai visto Morris Ne possiamo Vincere 553 A livello Morris Cacchio 553 Ma uno Che era A livello 1000 Mamma E beh Zubi E' lì E' 553 Ragazzi Non l'ho mai visto Nella bandeggene Complimentus Complimentoschi Zubi Grande Grande Allora Intanto La chat Ti sta salutando Tutti Zubi Grandissima La chat Dovebbe essere Dovebbe essere A livello Tra i 100 Le mettiamo Tutti insieme Io sono A livello 17 Vai Prestigio Eh si Eh si Ma quello Di zubi È il massimo Più di quello Non si può avere 15 Prestigio 15 Madonna Prestigio 15 15 Raga Io devo aumentare Proprio tanto Di prestigio Quanto sei tu adesso Prestigio 1 Io sono Prestigio 1 Raga Non so Come si vede Sta cosa Caserma Forse in caserma Si vede Prestigio 1 Raga Sono prestigio 1 Bella lì Si sta Allora Si fa un po' di fatica A sentirvi ragazzi Vi dico la verità Voi sentite bene Ok Perfetto Importante Che è lì Oh grande Giulie Allora Stavamo facendo Io sono Basso Ok Non gioco Tanto come Prima Cod Bravo 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 Anch'io 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 Ecco Nel sottocurino Poi aggiunge Prestigio 1 È vero È vero Vabbè Una volta giocavo Di brutto Tu zubi Lo comprerai Il nuovo Cod Penso proprio di sì Grande Anch'io voglio comprarlo Io voglio comprare Quello lì è il superbike Quello nuovo 2022 Quello della superbike Mi piace Qua è il mio primo gioco di guerra Che faccio Sì Grande Allora Quando carica il gioco Non sentiamo più No Li sentiamo lo stesso Arricchisce il curriculum Si vince Allora Dite subito Dove andiamo Raga Mettete un punt Io di solito vado A control Control Dai Allora Metti il puntatore Per piacere Raga Io mi perdo sempre Aspetta Vediamo La safe Com'è E aprimi Allora Appena c'è Oh Sono muerto Ma hai voglia che esce Modell Warfare 2 Eh lo so Sharder Si parla di Ottobre Credo Novembre Beh Ora ci portiamo già avanti Gioco Sniper Buonasera Assolutamente Sì Assolutamente Sì Assolutamente Sì Ok Allora Tutti gli amici Che si collegano In questo momento Abbiamo tre live aperte Quindi Zubituzzo TV Grandissimo Seguitelo E il mitico Morris E la mia live Di Marco Drums Grandi Grandi Per quello Ogni tanto Sentirete qualcuno Che parla Con nulla Ma non è nulla Grande Zubi Stava salutando I suoi amici Vero Zubi Eh Grande Zubi Ok Allora È ancora la prelobby Vero Non l'ho ammazzato Ancora nessuno No ci sto facendo Dammene uno Almeno No Niente Non sapevo Se fosse là Allora Ci sta Ci sta Ci sta Robby Dai Morris Fai tu il puntato Il puntato Il puntato Edetto Ciao Giulia No Arriva il 28 Shard Contro 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 Nella casetta Vero Sì No Contro No Nella casetta Ah bravo Bravo E mettilo Perché Già ho capito Ok Io entro Dal pinto Ma sotto 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 Marco C'è una certa Giulia 89 Che mi fa Le tue facce Dei live Ah 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 Grande la Giulia Mi è venuta a trovarti Grandissima Oh C'è già C'è da giù Ragazzi uno è morto Ce n'ho due Aiuto Ah è entrato dalla finestra Porca loca Ragà Sontimi Sì L'ho capito L'ho capito Sono morti tutti e due Ma non mi posso Autocorare Ragazzi Stiamo morendo tutti No Grandi Allora Vediamo un attimo Dove sono Io ragazzi Però sono sopra Zubi Sono sopra Io Come si fa da sotto Sono qua ragazzi Sono qui Oh Oh Zubi Cazzo Ci ha fatto fuori Tutte e due Ah no Non è Zubi C'era anche uno da lontano Che spara lì sopra Raga Con un cecchino Da lontano Che spara Mamma mia Ragà Oh c'è uno No Mori Cioè dai Quello non è morto così Incredibile Una terra Una terra Una lanciarazzata in facendone Ma non andate sul tetto Eh infatti Sul tetto è pieno Ehi 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 Ma mi sparano Ok Dove andare Io sono sotto ragazzi Scendono Fabriti scendono No no Che escono Alcuni titoli Per il tante giorni Stai visto No sul tetto no Sì 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 Raga io scapio È vero Vediamo se c'è qualcosa Permetta Oh Aspetta fermo lì Sta stirato Del tutto No dai Raga basta contro troppa gente raga poi c'è in giro uno con con la macchina che stila tutti frutti armi prendiamo il lancio 13.000 ok ok vuoi fare il lancio 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 c'è gente davanti eh non bombarda se riesci a prenderlo non posso prenderlo l'ancio attenzione è perché ne arriva uno dal fianco lo sto vedendo ma porca loca ma dove è possibile no dietro dietro è un bordello qui raga è un bordello gli occhi di tutti i occhi di tutti grande mori il lancio è appunto l'ho vista vista no non fanno che si baghi è l'altro morto no l'ultimo l'ultimo del team io non me lo riesco a fare no no amore bisogna dire così non mi riesco a finire il team io rimango sempre senza scusi e non mi riesco a finire il team non ho fatto qua c'è un altro dove sei dove sei dove sei marco aspetta aspetta che se ci si si aspetta 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 arriva arriva arrivo vai poi andando ok 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 dove vado e prenderla già io prendo la giunta non momento visto l'anno posto del nuovo pensatoio bella tu sei moris volevo tirarti su ma non ti vede prima coprire il lancio dobbiamo ancora fare il lancio noi vai vai no c'è una 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 c'è uno giù attenzione no dai ma quanti ce n'è qui dai ce n'è sempre due raga incredibile brava robin e qui un po è un po tosto qui e vi dico la verità non si può cambiare no ok niente allora dai attenzione è pieno qui raga vabbè settimo giotto è già meglio di nono è prima era nono no che vedere via caspita fabrizio va bene dai ciao stato bella la prossima che è grande fabrizio hai qualcuno tu zuvi che può venire o chiedo a sharder eh allora dai lasciamo il posto libero eh ne facciamo una o due bella lì raga dai dai prima nono stiamo salendo un po piano pianino eh eh sì forse magari verso le tre quattro di notte riusciamo a vincerne una un po troppo pianino la vinciamo dai 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 ci sto ci sto no ma con dire così verso le cinque alle sei ma e poi io le udici stacco che vado a letto perché se no domani non mi alzo eh ok io so che zuvi zuvi va avanti fino alle due eh anche di più porca miseria grande ma di solito per adesso sto facendo che mezzanotte luna è stato su code e vado su 17 ah per cambiare un po per non annoiarti dopo per adesso la nozze non riesce a dormire troppo caldo se ho un po' di freschezza la sera allora mi metto un po' più gt ah ok 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 io ho visto che deve uscire la superbike non so se ti piace a te superbike 2022 quello mi interessa come titolo non è male mai fatto di moto caspita superbike è fighissimo eh poi tra l'altro adesso al 28 esce anche il nuovo formula 1 eh tra l'altro non lo so 20 credo da pc si può mettere anche qua si può mettere aspetta mi ricorda qualcosa del gioco poi se lo cerco su internet grandi 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 scusate ragazzi ma quando siamo in live in tanti è un po' un casino si allora diciamo che la cosa giusta a zuvi sarebbe fare con obs che puoi gestire magari il party in un modo e il microfono però è un casino anche quello no ecco con un obs puoi puoi gestire tutto l'audio tramite discord allora si puoi fare quello che vuoi ogni tanto stream da pc ciao andrea però tipo già su cod se non sei su discord non riusciamo a giocare esatto è quello bisogna usare discord bisogna usare bisogna imparare a usare discord io ancora non lo so usare bene obbligatorio perché altrimenti ci vorrebbe un doppio microfono se stream da play si che poi tra l'altro con la il gatto serve anche un cavettino apposta per poter fare party se stai nei parti della play è un casino sinceramente allora dobbiamo spaccare tutto anche se strime da pc non lo riesce a sentire no non ce la fai lo senti ma non puoi parlare se con la scheda digitalizzatrice dc no e infatti bica la playstation ha integrato adesso non so in che senso abbia integrato discord ma è un po quello che che penso che vogliono fare integrare discord dentro una console così ma già c'è funziona c'è eh vedi c'è lo so si si ok basta andare nei messaggi e scrivi punto esclamativo discord non si apre no davvero? ah questo non lo sapevo io figo mmm cioè tu vai nel panne dove scrivi messaggi sulla play e scrivi punto esclamativo discord si grazie dell'info zuvi valla lì ok allora amore si voglio carico eh dovrebbe essere su youtube qualche guida dici? no no che è questo dove andiamo? dove andiamo? a chi è? e ci ha buttato dentro uno così andiamo sempre a contro là contro sotto? ma non gioca no davvero? power non gioca? si quindi siamo 3 contro 1 abbiamo il corpo random eh? eh si abbiamo 3 v1 vi ricordo 3 v1 oh 3 casse e 3 pistole? come cazze è possibile? ahahah un cecchino 2 pistole un cecchino aiuto 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 no cazio 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 è morto qua? oh madonna sto gioco da mesi mi aveva stancato è vero è vero è vero io ci gioco poco Andrea ci gioco poco io quindi non mi stanca c'è poca roba eh? quindi giocandoci poco Andrea non riesce a stancarmi capisci? allora preferisco fare così insomma non giocare tantissimo no no però giocare con l'amico moris dubbi e tutti quanti è una figata perchè oh cazzo chi è che è ricercato così? che esco il tetto? attenzione 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 dove? dove? è l'entrata è l'entrata e non so dirti dove qua lì 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 c'è un altro eh? io sto muerto un altro caldera c'è sempre un flop eh si si morisci guardi ok? ok siete dentro sappi quando tu fai la live allora ragazzi domani sera cantiamo eh? è screcato è screcato ok Roby ti aspetto domani sera dove è Carla? eh 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 io la sento parlare di là Marco devi invitare la Giulia dove la invito amica mia? c'è la già sul tetto vero? eh no c'è il shop sul tetto eh si si è sempre stata decisa non ho capito tre quarti dei messaggi che avete mandato ragazzi io sono d'accordo con voi manca poco eh? montano 600 io non vedo shop io ho 400 li volete? ci dovrebbero essere ci dovrebbero essere altre 600 in giro nella live così canta mentre giochi Marco ci sta ci sta ciao Loki se ti disturbo mi viene assolutamente Marco scusa se ti disturbo mi viene assolutamente e come faccio amico mio? non c'è assolutamente cosa cosa vuol dire? cosa vuol dire? cosa vuol dire? cosa vuol dire? è vero con lui hai ragione con lui hai ragione allora se aspetti un attimo Loki vengo a salutarti eh bella Loki grande Loki dimmi soldi venite sì 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 guarda che ti sta salutando anche Zuvituzzo Loki eh dovresti venire dentro in live a fare un saluto anche tu eh ci siamo ci siamo ciao Zuvituzzo TV ti ha scritto ciao Loki grande Loki ecco me li dai sono di più favore tieni e come no sono qua sono già giù guarda oh dove sei Boris sono qua l'hai presi? l'hai già presi? l'ho presi ero qua a spettagli oh mi sparo mi sparo oh raga terra uno oddio uno è andato uno è andato uno è andato uh grande Marco Drah ti va fatto? eh uno fuori però vuoi che ti rianimo? è chiuso solo che non ha chiuso la play forse deve entrare attenzione ragazzi dove andate voi c'è c'è il mondo eh ah tu vuoi usci collegati diciamo possiamo ero entrata ed è chiuso è chiuso diretta vengo col silenzio c'è uno sopra ok vengo col silenzio posso giocare con voi una terra siamo in eh deve entrare uno Loki qui porca miseria deve entrare qua paolo l'ho preso un po' no no c'è altri dietro tutti morti tutti morti tutti morti Porca miseria Uno solo rimane Settimo ancora Cazzo Marco primo quando ha fatto la live Lassi un attimo metto un vaso alla live Ah Ok Ci sta Allora andiamo a trovare l'occhio Allora andiamo a trovare l'occhio Non c'è niente nella tua live Nella tua live Scopri la nana Ah eccoti qui La chiusa No 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 lo sto vedendo Allora Il problema Problemino Problemotto Problemino Lotto È che Deve entrare Già Oh mio amore Ti chiedono Sì anche così No Vieni così No Vieni così Baby baubau Baby baubau Vieni qui Wow Vedi amica mia bellissima È mezza nuda E non mettere l'acqua lì Se te l'ho data io Ma la devi ridare Oh ragazzi è incredibile Carlo gli passi una cosa Poi la metti A 8 km da me Amica Adesso Se si Rende presentabile Perché sembra che me lo fa apposta Oh eccolo qua Grande Pensavo Portateli da gaming Io ho questo fov giusto Non l'hai visto? No Sto finendo di preparare la valigia Versetto non c'è stasera Amici miei Gioco gioco E da te Morris Ti Allora Roby ti Ti dico una cosa Vediamo se vi indovini Ci sono Aspetta Devo prendere lo scioppo Oh grande Lo scioppo della tosse Hai fatto bene Allora Vediamo se vi indovini Dov'è Questo penso che è 4 Sì no effettivamente La canzone del padrone Abbiamo vicinissimo la 6 Ok dai Metti punta E magari Roby Un po' più al nord Verso 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 Bryson Direttamente di sopra Ma andiamo Verso Nova L'Italia è così Ok E l'isola Lei va Qui Baguette Baguette E anche io vorrei venire in Sicilia Raga Anche tu Morris Sei in Sicilia Vero? Io Sì No Non sono in Sicilia Dove sei amico mio? Puglia? No Calabria Calabria Ok Grande Mi ricordavo male Allora Tu Sicilia? Zui? Sì Grande Io sono veramente Tantissimi miliardi di chilometri Distante da voi Sono a Varese Sono vicino alla Svizzera Non è tanto lontano Saranno 1.400 chilometri Sì infatti Una cacata Cioè a 10 minuti sono lì Beh oddio Io prima Abitavo a Modena Modena è vicino da me Sono 3-4 ore Qualcosa In 12 ore Scendiamo Ah da Modena 12 Sì Minchia Allora ce ne vuole 5 Arrivare da Modena Quindi Io ce ne ho Quante ore ho? 18 ore Fischia 18 Ragazzi Aiuto Dentro a metà Nel piano tra il tetto e metà Eh perché non siete qui voi Dove siete? A metà dove? Eh ma voi dove siete scusami Io ero dentro nella casetta Control Marco ha detto a Control Ah Control Vado a fare Vabbè ormai sono morto Vi seguo Vi seguo Marco indovina Dove sono? Giulia e Lord Dove sono Giulia e Lord Nelle Marche Tu Roby dove sei? Ah ti ho detto prima In Sicilia No voi non avete detto Sicilia Sì sì no scusa L'ho ricordato Sai che io mi Andrea in Sardegna Ragazzi è un amico che abita in Sardegna Ferie gratis in Sardegna Ferie gratis in Sardegna Ti vengo e ti regalo un sacco di magliette E mi facciamo un bel 10 giorni gratis Prima o poi qualche anno lo facciamo Dove 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 Amo ho trovato Andrea che vive in Sardegna Ferie gratis in Sardegna C'è gente a Control Attenzione ragazzi Siamo sulla linea del Sì prendi Bello Carlo Contro Che fama dietro Casa mia 300 km Infatti Andrea In Sardegna Questa mi è piaciuta Amo Andrea Infatti vedo Marco Che farma dietro A casa mia Sai che faccio la pista in Sardegna Ha detto che mi vede Grande Questa mi è piaciuta un botto Questa forse è la top La top 10 Delle cose Simpaticissime Che sono state date nel canale Ha una terra Qua Ma voi dove siete Ah siete più avanti Arrivare Facciamoci content Facciamoci tutti content Vieni Bombardato Uh grande Bombarda bombarda Io ho soldi eh se volete Ciao Mike Grandissimo Tutti a terra Tutti a terra Tutti a terra Tutti a terra E che ti sei fatto col bombarda C'è un altro eh Mike non potevi venire a giocare stasera A terra di nuovo Ma dove siete A terra un altro A terra un altro E finisci Tutto bene Tutto bene amico mio Stanno giocando loro due Io mi sono perso Sono solo due chili Io rega Dove il latte No 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 Sotto io Sotto io La nave L'ho vista qua Sì l'ho visto pure io Maniccio Ah Ah ok ok Perfetto Atterrato Atterrato Non so se si può autocurare Ma credo molto di sì Perché se lo ha morito Si si autocura Si autocura Corri 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 Sei già autocurato È già giù È già giù dove ci sono i container Passato 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 A terra A terra Oddio Ma è cambiato un botto Rebirth Hai visto Sì sì Oh aiuto 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 Ragà Aiuto C'è un altro Cacchio L'hai fatto? Si è ammazzato Morris Oh grande Morris Grazie 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 Sapevi che tra poco Tolgono Rebirth Per un'altra mappa No Andiamo via che c'è la safe Ragà Andiamo via Oh ragazzi Sapevate che tolgono Rebirth Per un'altra mappa? Si Ti faccio vedere Ah Sono proprio io che rimango fuori Un po' dal mondo Ragà Non lo sapevo Non lo sapevo Ragà Dove vanno? Poi tra l'altro Loro corrono Andiamo verso il lobby Oh ragà C'è qualcuno qui sopra Allora sapete ragazzi Che a me piace Giocare con gli amici Sto gioco Perché da solo Mi annoia Si chiama Fortezza della fortuna Ma tanto Noi la fortuna Si scansa Massimo a letta Mi mirano Mi mirano C'è gente sotto Allora Io ho preso qualcosa Che non so come puoi usarla Volete che vado io? Non ci smettite Amore che hai parlato Mori amore No dai Non voglio portare sfortuna Aspetta che vado io Così almeno ho parlato Almeno se muoio Muoio io Ah qui è libero Dobbiamo stare qui Uno qua ragazzi Eh si più di uno Uno l'ho secato Ce n'è più di uno Ci sono Ok grande Dove? No Dove sei tu Subi Ero lì Questo l'ho fatto Chi ha spostato la macchina Morris Qua qua sopra Qua sopra Michele Da tonno Eh Michi si è venuto anche da me Grandissimo Qua da me raga Ciao Michele Guardi qua Sotto Uno sotto qua Terra È morto No mi ha morto Morto questo Un altro dietro No mi ha morto Perché devi fare ste cose Dammi solo i baci Non lì A terra A terra Mi fa cosa? Di bimidi di taba di bimidi Dabbi 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 Ciao Giulie Arrivo Oh Giulie Sai che ho cambiato il colore Dallo smalto Marco prova a venire Eh io Sto vedendo Aspetta Ciao Arrivo Arrivo Oh Uno all'angolo 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 Andrea ciao 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 Arrivo raga Oh oh Vedo che state crepando No No Ciao Lord Sempre sette Sempre sette raga Comunque È un sette È un sette È un sette simbolico È un sette Nella fa È un Cos'è che è? Un rosso terra È un corallo Tu sei il corallino mio Corallo Tu sei un corallo Bella Allora Loki voleva giocare Prova a vedere Zubi Se Se c'è Pierpaolo Se no facciamo Entrare Loki Zubi 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 Tuzzo Oh Bello Perché non c'è nessuno Moris Zubi L'orbi Sta dormendo Un braccio Un braccio Ah che bello Ah ok Ok Allora come faccio a invitare Non me lo ricordo mai Ciao Roby Ciao Roby Sì 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 Stasera è venuta Juju È venuta Sì sì ma l'ho stata salutata Allora come si fa a invitare Marco curiosità Per streamare usi la cam della PS5 Sì Premi X sul giocatore E poi fai invita Ah no 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 Cosa ho fatto Premi X sul giocatore Poi invita Ma dove 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 è il giocatore Zubi Aspetta Non me lo ricordo Allora forse devo andare in caserma Aspetta eh Prima triangolo Ah ok Allora Moris Invita la partita No Cosa ha combinato Aspetta Zubi Si era addormentato L'ho svegliato Oh povero Sta facendo ingresso Nella sessione No Allora Triangolo Zubi Eccolo qua Invita Penso che sia questo Ok Invitato Sono passato Ciao Frac Amico mio Un bel salutino Dai amico Grandissimo Come stai Come stai Allora Io non vedo Allora Robi Frac Grande Dai dai Poi domani sera facciamo Facciamo Gran Turismo Formula 1 Ti aspetto Ci sei Zubi Eccomi ci sono Grande Grande Allora Entra Pierpaolo Se no Loki voleva giocare con noi Ancora non è arrivato Per farlo Allora dai Facciamo Loki Ok Eccolo qua Ciao Frac Grazie amico mio Oh è entrato Morris Loki Loki Sta entrando Loki Ok 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 Finito l'aggiornamento Shard Dopo se c'è posto C'è anche Shard Peccato Stiamo facendo una bella partita Caspita Davvero A volte quando succedono queste cose O che fa quando ci sei Mi scrivi che ti invita Abbiamo fatto entrare un altro ragazzo Fissaggio Quella Ciao ragazzi Ciao Loki Ciao Ok per Paolo ha detto si sta scendendo Eh ma siamo c'è qua Sì 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 Sbottolo Ah io sono Rebird di ritorno quartetti Bella lì raghi Perfetto Sì Grande Voi non avete indovinato dove va Carla ragazzi Ho detto Baguette Baguette Sì C'è sarà la beta Dobbiamo vedere solo Allora hanno detto che forse Ho visto un video Dove hanno detto che forse toglieranno I pacchetti che abbiamo Che è tutto il team per le armi Azzerano tutto È un nuovo gioco Un nuovo gioco che forse è su Warzone 2 Sì sì calciano infatti tutto E le scuole Lotti come va? Sei messo un po'? Allora tu dire la verità non ci sto giocando perché avendo il volante Ehm Voglio provarlo Pierpaolo Si dissocia Pierpaolo si dissocia Ciao amico mio Per adesso Per adesso Fa Morris Gamer Ciao Maurizio Grandissimo Di Pokia Un saluto da parte di Pokia Chi l'è Pokia? Un saluto da parte di Pokia Ci sta Ciao Pokia Ma se facciamo party Ma se facciamo party in che senso? In party In party In party In party Zubituzzo Sì siamo tutti con la play Esattivamente Beh ma si sta sentendo bene stasera Devo dire la verità Ehm Eh è vero o no? Di solito è una schifo Grazie Grazie di essere passato C'è qualcuno con la live Con il volume Allora si comincia a sentire Ah si Tipo l'eco schifoso Quello meung Che sembra di essere in chiesa Ehm Ho visto Appena l'ho detto Ha sentito Allagato Ah 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 Ehm Ehm Quel team con bombardamento che gli ho fatto al primo Mamma mia La partita di prima era veramente bella Eh Sì Peccato che eravamo Sì Se no non si ricorda Ci muore subito Deve essere sempre Ricordare che c'è uno in più Sì Come va? Grande Maurizio Va benissimo Maurice è bravissimo Siamo riusciti ad arrivare sempre settimi Non so sta cosa del sette stasera Non va tanto bene Però Però siamo Ci stiamo divertendo L'importante ragazzi Come dice sempre Marco Drums Games È divertirsi Sì Sì Allora Ciao Giuli San Giuli San Bellissimo Giuli San Dove andiamo? Andiamo qui Allora Vi devo dire la verità A me piacciono E mi diverto tantissimo Quando mi arrivano Gli abbonamenti Sotto 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 Mi viene proprio La felicità dall'interno Gli abbonamenti O Come si chiama Le donazioni Queste cose qua Sono bellissime Sono cose che Scaldano il cuore Scarsoni Maurizio Sotto che siamo scarsoni Grazie Maurizio Come sa Come è giusto Lei Io ho preso un invarto Sto hai fatto Grazie Maurizio Come è umano Lei È passato anche Michele Ma io ho fatto uno Tutetto Tutetto Secondo me Vedrà fuori Un bordello Qua dal tetto Non so perché Mi sta laggando No Maurice Un pochino Il lag no C'è un altro C'è un altro sul tetto Che annunci propone Nel con la ricompensa Arriva arrivo ragazzi A terror So io I giochi Sono sempre il primo A morire Non c'è Molto da fare Perché sei Molto Rambo La stessa cosa Stavo sulla mia mappa Sì felice Ma devo andare dietro Un saluto Da Dario Lampa Oh Grande Dario Lampa Ma fai Iscrivere Al mio canale Dario Lampa E Zubi ride Quindi Lampadario Dario Lampa Lampadario Beh salutamelo comunque Dario Lampa c'è sta Lampadario Comunque se ha un account Dina Lampa Dina Lampa Lampadina 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 Chi sarebbe di Lampadina Dina Lampa Ma no No Chi è Lampadina Alla moglie Ok raga Mi dai soldi Facciamelo d'altro Però È forte questa Grande Pierpaolo Labbro Cande Candelabro Dai Adesso che Non ci casco più Che era una persona reale Che pensavo Che mi poteva lasciare Il follower Ho sentito Labbro Cante Cante Labbro Sì Il grande Pierpaolo Vai Io se volete Ho zero Io pure Se può essere D'aiuto A qualcuno Io se ci sono Gli sette Certo Mi dissocio Preventivamente Beh ci sta Come tipo di ragionamento Per Polo si dissocia preventivamente Zubi Preventivamente È la mia vita È la mia vita È la mia vita Di avanti a car Non la posso mai Marco Polizia Devo giocare Di avanti a car La Giulia fa qualcosa di veramente lungo Super cari fragilisti che spirali Toso Toso o Doso Ma Giulia poi Non è che c'è il copyright con la frase lì Il papo Dove piccatevi prego Giupiter Allora io sono qui eh Dobbiamo riunirci ragazzi Siamo tutti lord Dice al lord Siamo tutti sparpagliati eh Venite venite Allora io sto salendo la scala raga Sto seguendo Morris Ok Oh oh arrivano Possiamo approfittare adesso Eh attenzione Posizione rivelata Aia Aia Devi fare un annuncio Andrea l'ha riscattato Che cosa che cosa Ah pettine verde Ora sappiamo dove sono tutti credo Guarda me Guarda me Guarda me Guarda me Andrea Ma non fareste cose Che non so che cosa Allora L'annuncio importante Marco drums Smetterà di Streammare Eh si ragazzi Una brutta notizia Smetterà di streammare Nel 2074 Ok raga Ci state Ecco dove sta Occhio sei solo Solo io Eh che cacchio Aspetta che mi metto qua Nella Aspetta che mi metto qua Nella Nella sterpaglia Qui 5 secondi Non sparo così Non mi vedono Eh Nero pronto A tale annuncio Non eri pronto Vero Eh lo so Lo so A volte queste cose qua Sconvolgono Ragazzi Sì proprio Sicuro 100 100 Averti piedi Ho sicuro L'ho proprio Assicurato Grande Drums Due li ho uccisi No No Cacchio No Labbra di tuono Tuono di labbra Cacchio Ragazzi Tutte e due Li ho segati Avete presente Uno un grande Proprio Oh perché mi hai dato solo uno però Sono strunzi Vabbè Questo ci faceva solo Ah dici Fa qua da me Arriva 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 da me Attenzione Quindi Ma il collega Non ci vuole Regalare niente Dove hai stracciato questo No 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 Ti regalo un bacio Se vuoi Robby Lord Purtroppo Se si farà la festa dimasso Ho stracciato questo Perché Dove deve andare Lord Sotto Dove deve andare Lord Dove deve morire Ok Ce la facciamo fare un avvino Un uo a vino Un uo a vino C'è delle armi giù lì? Che bello Via Secondo annuncio Riscattato da Pierpaolo E che cazzo Allora Ragazzi Ho una nuova C'è importante Da fare Attenzione Che arriva uno E' nato dentro qui Sto balordo Posso dirlo in maniera Family Family Oh ragazzi C'è qualcuno qui No 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 Era lì Aspettarmi Allora Un annuncio Marco Drums Games Al 28 Sarà il day one Con formula 1 2022 Come Marco si sposa Figa Un'altra volta Mi sono sposato Nel 2001 Oh non dobbiamo morire C'è tanti anni Roby Che sono insieme alla patata Quello Quello dietro la casa O è proprio morto Arriva arriva Carla non c'è più Questo che mi arriva Questo che mi arriva Orca loca Che ci regala Un qualcosa a noi Vi regalo un sacco di baci E carenze No Non sembra un po' strano Ma dai Ma mi ha fatto spawnare Sopra di loro Ma vedete Oh siamo arrivati i sesti ragazzi Bravi Dai Piuttosto che i settimi Ci sta Io sono già contento Sì forse Forse Perché ho visto Che si muove La winner Forse sì Dobbiamo busciare un po' di meno E fare la winner Dai facciamo la win Facciamo sta win Dai che poi Andiamo in leggi Ho visto pure io E poi appena è sceso Ha tremato tutto E dopo Marco sei tu che gestisce Ah ok scusa Cosa devo fare Gioca di nuovo Gioca ancora col team Sì Gioca ancora Abbandona con il team Ah scusa è vero È che non lo faccio mai Io di solito Sempre Morris Marco sì Regaliamo un abbonamento E tu che ci regali Allora Pampanina Potrei Potrei cantarti una canzone Vuole la maglietta Annuncio importante Marco Danone Dice che si farà NURBUR IN GORO Regalerà una coppia Di Formula 1 22 La chat Questi annunci Questa piega Che ha preso Stasera La chat Non mi piace Ragazzi Non mi piace Non mi piace Non mi piace Lo dico proprio Con tutto il corassone Zubi vogliono che Regalo cose Io non posso Regalare cose Sono io lo streamer Siete voi Che dovete regalare cose Alli streamer Vero Zubi Eh È così che Ci vuole un regalino Urca miseria Pure Zubi Si mette contro Si libera un posto Senza che si fa tardi Apro Allora In realtà In realtà C'è un bel po' di gente Allora Possiamo fare così Pierpaolo deve giocare Vero Zubi Sì Allora E deve giocare anche Shader Se facciamo così Io non voglio Ne buttar via nessuno Ne mandar via nessuno Ne fare Se allora Entra da noi Miki E Shader Con Morris e io Aspetta No Miki Loki Tu E Pierpaolo Potete giocare E Possiamo organizzare anche Le private Una privata E quanti servono Quanti servono Il numero 30 persone Eh No 28 mi sembra Ma come fai No Se arrivano 28 persone Possiamo fare la privata No Ma davvero Non si può fare la privata Con sei Anche una volta a settimana Facciamo la privata E non si può fare con sei Noi delle chat Che giochiamo Un po' da te Un po' da Morris Fatevi pubblicità Divertiamo Io posso portare Michele Miki Shader Loki Marco Drums E poi E poi può venire anche Loki Eh ma quanti cazzi sono Siamo pochi Dobbiamo fare la guine Dobbiamo fare la guine Rai Me la sento Me la sento Sotto Sopra Sotto 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 Oh ragazzi Ma quanti cavolo sono Sono tutti qua No ma siete seri Qua dobbiamo andare Covid Ma porca miseria Ma porca miseria Ma porca miseria Ma porca miseria Ma me la senti Oh Che inventero Me la senti Occhio se sono Io solo Io solo Vai Vai giocante Se si libera un posto Ci sarà un'altra volta Ok 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 Adesso vediamo un attimo Grandissimo Michele Se no facciamo un'altra serata Eh Facciamo un'altra serata Amici Tanto nel wiki Nel wikland Ci si può anche Organizzare Guarda quest'altro Babbuino Eh Possiamo organizzare Un'altra serata Se vogliono giocare Non c'è problema Se no Michi Vediamo un attimo Di far due squadre Si può fare due squadre Zubi Poi dopo io vado a letto E vi integrate tutti Per me o guarda Eh Se no si accendi Che Che facciamo due squadre Michi Si ma io c'ho una pistola Ragazzi Ma cosa vuoi fare io con una pistola Ragazzi Io sono sotto prison Perché non c'era C'erano armi No Io non gioco Troppo Assolutamente Ai giochi di corsa Oh porco tu Do 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 Oh c'è uno stronzotto Che mi è venuto sopra Non lo so Mi ha dato una batirata Mi ha dato Mi ha dato una ascettata Questo qua Cattivo Sto sparando anch'io Però Allora, eh, non so come fai di te Hai visto Forza? Sì, 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 l'ho visto, bello, bello, bello Me lo gioco sul 2, va preso assolutamente Beh, dentro nel pass Oh, è preso A me è stato solo c'è una nuova Beh, ma io ho la Series X, ragazzi Quindi possiamo farlo tranquillamente insieme Sul pass davvero Assolutamente sì Eh sì, eh, Miki Eh sì, eh È tutto sul pass, la roba di Microsoft Anche Starfield Sì, sì Se poi vuoi ti faccio Fare un coro che ho fatto anche a Lord Che ti faccio fare due anni Quasi tre anni di pass Dove? Non è un trucchetto, è una cosa che anche Microsoft dice di fare, di convertire tutto in gold Il gold in Game Pass Lo ho già Ma ce l'hai tre anni? Un saluto da Istadent Dentista Non lo pago Non lo pago, è ancora meglio allora Grande Dovete spiegarmi allora come ho fatto a non pagarlo Arriba Lorde Oh cacchio No, sono morto da Sì Occhio Oh cacchio Oh cacchio Mo Pusciano Sì sì Basta avere un amico che è molto gentile e non paghi nulla Ci sta, ci sta, ci sta Ci sta Invece io pago tutto Ah ok Ricambio allora Ci sta, ci sta, ci sta Grandissimo No io ho fatto la conversione del gold tre anni quindi con poco più di tre euro al mese Ho una terra Dai guarda questa Porta Attenzione ragazzi eh Attenzione eh Perché ho visto qualcuno morire lì? Oh No raga mi sta allargando un bordo Marco tu anche perché ora chiudi le live Io ho le undici amico mio Ah davvero? Leo vieni qui e mo Beh anche Vittorio, Vittorio non l'avete mai Pierpaolo si dissocia e ci sta E ci sta, eh come cosa ci sta Anche perché Pierpaolo deve venire a giocare ragazzi Per quello dobbiamo fare per forza due squadre Quindi Michi carica pure il gioco Pierpaolo carica il gioco Ci dividiamo porca la miseria Io questo non l'avevo visto Non l'avevo visto ragazzi No prendiamo il lancio e pushiamo Pushate ragazzi, pushate Due sul tetto ragazzi No 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 Mori se non morire? Andavanti Dove dove? Eh sì Sono ridato io Pischelli vi saluto Ciao lord, ciao amico mio, buonanotte Mi lagga troppo Mi lagga troppo, non posso giocare Nooo Ma perché ti lagga morris? Ciao lord, notte amico mio Gradissimo lord È meglio porne a sto punto Se dovevano giocare così Parole dure Dette da un uomo davvero strano Parole molto dure Dette da un uomo molto strano Era simile la cosa Non ci fai il giro Niente, niente Io non posso giocare Io non posso giocare ragazzi Io non posso giocare Nooo Io non posso giocare Che a te me muoio Questa è un'informazione ragazzi È una cosa seria Notte shard Oh Vai a letto sharder Ciao sharder Ma no, ma l'ha letto Ciao lord Ha scritto io vado a mangiare una cosa E poi vado a letto Ha scritto questo sharder Marco occhio Marco occhio 3 secondi 3 secondi Sto fermo C'è io a te me muoio ragazzi Ciao giuli Buonanotte C'è te rinati? Non si può prendere Ti diamo sotto prison Dieni mio amor Che ti voleva vedere Andrea Di dove erano? Ma quando? Ah raga dentro prison c'è gente Riuscite a darmi una smanus Oh cazzo non farmi sparare Una terra Eh che cazzo È senza Oh moris grande Dove 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 È andato è andato forse Oggi con questo Ah ok ok sharder Grande Non ti affacciarmi Sei morto? Sono a sinistra Sì No 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 Dietro Ciao ciao Scusate ragazzi Ho urlato A domani Buonanotte Ciao sharder Ciao amico mio Marco Ma chi è andato via? Devi tornare Loki mi sembra Ah Loki Ciao Loki Ciao amico mio Ti aspetto domani sera Domani sera facciamo Formula 1 O Gran Turismo Ciao 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 Ok va bene Ciao ciao Devi tornare Miki vieni tu Ok Miki è già in lobby Grande Cioè Miki e Pierpaolo però Ci siamo dimenticati di Pierpaolo prima Allora ascoltami Pierpaolo Se fai fare due partite di numero Io poi me ne vado Ti va bene? Non so se sei ancora in live È da me È da te eh Chiedili se gli va bene Io faccio giusto due partite Poi me ne vado E poi entra lui Eh Grazie Pierpaolo Grandissimo Allora ma tanto Anche lui due Ecco Cambiano mappa Davvero? Ma il bese la caccia Quindi non ci sarà più questa? No no Questa la tolta Ma quando? Tra 22 Ah caspita Grazie E quindi ci sarà l'aggiornamento 176 giga Tutta la solita roba? No Pochissimo Sarà l'aggiornamento Ah Adesso Adesso torniamo Il lobby Ti faccio entrare Che fa? Ovviamente adesso Stavo aspettando La mezz'ora Ah Marco Premi No Marco Cosa devo fare? Cosa devo fare? Che devo fare? Maurice Maurice Ok Zubi lo sento Maurice Ecco ti sento Grande Dimmi tutto Dimmi Zubi Facciamo entrare Pierpaolo Che è la mezz'ora che aspetta Allora Facciamo entrare Pierpaolo Che è la mezz'ora che aspetta Dai Miki Che bordello che è sto gioco Quattro giocatori Veramente è una merda Ragazzi Io 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 vorrei giocare Non al Warzone Ma a quell'altro Giusto perché Ecco adesso è arrivato Ascolta Facciamo una bella cosa Esco io E vado a giocare con Miki Perché tanto io Faccio due partite Zubi E E E mi scoccia Che l'ho fatto Accendere la play Per poi non giocare Neanche con lui Eh No vabbè Ma mia Scusa Miki non Non gioca dopo No ha detto Fa due partite Poi va a letto Io ne faccio due Vado a letto Buonasera Buonasera Ciao bello Ascolta Io ti saluto qua Grandissimo Esco un attimo Vado a giocare con Miki Perché l'ho fatto Caricare il gioco E Aspetta Se no Fammi cosa mi ha detto Miki Aspetta Solo un secondo raga Sicuro Miki Non è che te la prendi poi Che poi mi togli Il Il follower O robe del genere Fai bravo Miki Va bene Allora giochiamo Giochiamo un paio di partitelle Ciao Marco Ciao Ciao bello Come stai Ok Grandissimo Grandissimo Oh c'è del rimbombo C'è del rimbombo eh C'è del rimbombo eh Ramboso Sì l'ho invitato io Perché andavate via Pierpaolo Ai rimbombi Ai rimbombi È Ramboso È Ramboso Ascolta Ascolta Faccio due partite Vado a letto Se vuoi Segui Marco Drums Games Channel Su Twitch Così Quando io esco Tu sai Dalla mia live Che sono uscito E puoi entrare tu Grande Marco Drums Games Su Twitch Guarda che ti guardo Sono 580 follower Sicuramente Non si iscrive Eh raga Sicuramente non si iscrive Che state facendo Il Battle Royale Quartetti No 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 Marco Ah no Sbagliato io Ah cacchio Aspetta Abbandona con i parti No Rebird Ma perché Va sempre su Battle Royale Allora Potevamo fare 3 e 3 Se eravamo 6 Effettivamente Hai ragione Effettivamente Effettivamente Hai ragione Effettivamente ragazzi Però potevamo fare 3 e 3 Che mandare fuori il ragazzo La prossima settimana Facciamo La privata Così giochiamo tutti Ma 28 Chi cazzo è Che c'è Chi invitiamo Come 28 Mi dissocio Preventivamente Io Si trovano Dici Si 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 trovo Vabbè Mi dissocio Preventivamente Anche io stavolta Mi dissocio Un saluto Un abbraccio caloroso A Dina Lampa Dina Lampa È bellissimo Marco Se hai qualcuno Che vuole giocare Io sono tutti pomeriggio Ok Io lo dico Lo posso dire Nella live Se vogliono giocare Te li mando sempre L'iscrizione Quindi ogni volta Che entriamo Sai che io Faccio sempre Bollicità A tutti i miei amici Dei canali Diciamo la verità Grazie a tutti i miei amici Marco Grande E' fatto l'abbonamento Diglielo E praticamente Adesso sono finite le scuole Allora praticamente arriverà già più gente Perché guarda che Con le scuole qui Con gli esami e tutto E' un casino Infatti bisognerà organizzare Anche qualche privata Qualche bella giocata Anche di Gran Turismo Ho fatto delle patentozze Sai la L'ultima Zubi Quella S Mi ha fatto un giro Zubi Mamma mia Da paura Ok Dove andiamo a control? Si dai Anzi Sai che cosa vi dico io ragazzi Io faccio l'ultima Si si E vinciamola Ok ragazzi Anche tu Morris Fai l'ultima Non lo so No Vabbè Tu faccio Io faccio l'ultima E dobbiamo vincere Ok Ma da quando è cambiato Labbra di tuono? Ma chi è Labbra di tuono? Lo sento Pierpaolo? Mi sento come una fettina di carne Labbra di tuono L'ho visto adesso L'ho visto Dove andiamo? Zubi Fatti vedere che ti devo lanciare la granata al gara Dai 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 Dobbiamo vincere questo Dai Eh dai Però non l'avete pingiato Dai Oh Elia Più tardi ci sei Giochiamo No Riesci Mi sembrava che aveva fatto io la kill Cazzo Mezzo sgomata neanche la kill Allora da Uno qua sul tetto raga Sta arrestando Ok poi ci proviamo Ok sono qui Allora se voi guardate davanti Io guardo la scala Ok raga Così non ci fregano da dietro Oh una da me C'è un'arma Su prenditi l'autore Quattro Oh chi è arrivato Non c'è da io Ah ok Questo ha dipisito Ma dove? Sul tetto? Morris tu sei? Ah io mi voglio vedere questo Ma penso Un colpo da qui Tipo da qua Sì Ma tu li tendi sopra sul tetto eh Oh uno dietro Ma prendi Grazie Pier Arriva Attenzione Dal tetto? No No Ma no Dove? Dove? E' dentro La porticina davanti Era sul tetto Mi ha visto passare Struz Dove eravamo noi? Nella porticina davanti Occhio Si è messo per terra Si è sdraiato per terra Davanti alla porta delle scale No eccolo Eccolo L'ho fingato Oh sono in due Sono in due Dove sono in due raga? La terra La morte No 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 L'ultimo L'ultimo Io non lo Io pure devo cambiare Devo fare l'altro Pazzo Quello che mi scocce a rigida È occupato Pazzo nuovo È grande L'avete fatto qua raga A terra uno Uno Un gol Un gol No Sono un team intero sulla scala Tutti con la squadra Sono tutti lì sotto Attento Questo c'è Quella cosa c'ha Porca loca È arrivato anche Morris Lì a manetta Grande Morris I miei Oh Oh Eh È un'altra perra No Non è Vagli Ah Vagli C'è uno, c'è un altro, c'è un altro No Marco dove sei andato? Non lo so Dove sei andato? Dove sei andato? Dove sei andato? Dove eravamo tutti Eh ma c'è la safe Aspetta che arrivo Ma noi siamo dentro la safe Ah ok, allora arrivo Attenzione che uno è venuto, ma siamo noi Provo a venire Si arrivo Ma siete in safe lì? Un po' Attenzione Ho visto uno secondo piano raga E mi finisce Mi finisce Fa 20 persone Terra, terra, c'è un altro dietro Aspetta, aspetta da lì L'ho mattato io sto stronto No, no, c'era un altro lì Che cacchio Allora amici Pierpaolo JuvitusoTV grandissimo E Morris io vi saluto Si sente? Non si sente? Mi sentite? Mi sentite? Mi sentite? Raga Allora Che mi dice che stai guardando senza video Ciao ragazzi Ciao Morris Ciao JuvitusoTV Ciao Pierpaolo Grandissimi È stata bellissima staserata Ci vediamo alla prossima Ne organizziamo un'altra fighissima E buonanotte a tutti amici Buonanotte a tutti Buonanotte a tutti Notte notte Michi Grande Michi Ci siamo Ciao ciao Io vado a nanna Io vado a nanna Ciao tutti Ciao Pierpaolo Ciao Morris E ciao JuvitusoTV Buonanotte a tutti ragazzi Ciao Pierpaolo Mi sa che non mi sentono eh Però Ciao davvero a tutti amici di Twitch Statevi bene Buonanotte Buonanotte Ci vediamo alla prossima